ciao a tutti gli amici di youtube luna rossa family valorosi abbonati amiche ed amici del gruppo andromeda del gruppo chiuso andromeda 1 e 2 benvenuti e bentrovati per un nuovo video oroscopo oggi trattiamo la prima settimana di aprile già con l'occasione vi ricordo che comunque sul canale trovate il video oroscopo di tutto il mese di aprile però settimanalmente noi andiamo a monitorare diciamo ecco altri aspetti va bene quindi sono previsioni sì settimanali però di settimana in settimana approfondiamo punti di vista diciamo ecco diversi o differenti va bene trovate quattro video sul canale un video sui segni di terra segni di acqua segni di aria segni di fuoco all'interno ogni video è suddivisa in capitoli l'introduzione uguale per tutti e poi come sapete già per chi mi segue ma lo dico per chi è nuovo del canale i capitoli per ogni segno zodiacale quindi vi potete spostare attraverso i time stamps di capitolo in capitolo rispetto al segno che vi interessa detto questo però il mio consiglio è almeno di vedere tre punti segno zodiacale luna e ascendente mente ovviamente se nel vostro oroscopo vedete che ci sono che so opportunità cose nuove andate a vedere giove se ci sono situazioni un po più particolari con venere andate a vedere nel vostro tema natale in quale segno zodiacale e venere se ci sono dispute litigi così di questo tipo andate a vedere anche marte quindi più o meno regolatevi di conseguenza però il tris luna il sole quindi il vostro segno zodiacale e l'ascendente quello è proprio diciamo il minimo poi ovviamente potete anche vedere il segno zodiacale del vostro partner per tutti lasciatemi dire che invito e se ancora non l'avete fatta di iscrivervi al canale attivate la campanella per ricevere la notifica dei prossimi video ci saranno tante belle novità e anche perché noi con l'oroscopo dobbiamo crescere soprattutto da un punto di vista carmico ci arriviamo a spizziche bocconi ma ci arriviamo ecco ad introdurre certi discorsi piano piano o a tempo debito in ogni caso in ogni caso io vi ringrazio per essere qui vi ringrazio per avermi scelta vi auguro tanto amore e buon ascolto a tutti quanti like se il video vi è piaciuto e se vi va di commentare sappiate che io leggo tutti i vostri commenti un bacione alla prossima e buona settimana eccoci qua amici cancerini vediamo cosa c'è per voi questa settimana allora 12 carte 8 di bastoni 3 di coppe 6 di bastoni sole asso di bastoni cavaliere di pentacoli 10 di spade 8 di coppe 8 di coppe 8 di coppe asso di pentacoli re di bastoni 9 di bastoni allora 4 di spade 4 di spade è una settimana di guarigione praticamente magari in questo mazzo di carte non si vede però il 4 di spade è una carta dove c'è uno messo nel lettino che si sta riposando perché ne ha passato un po di tutti i colori diciamo ecco si sta finalmente godendo un po di no pace ma di meritato quantomeno riposo di recupero magari per andare poi verso una direzione di un qualche tipo di resilienza allora in generale l'inizio della settimana con lotto di bastoni possiamo dire che è caratterizzata anche da come dire ecco cose che accadono abbastanza velocemente diciamo ecco l'intesa rispetto a una certa frenesia nonostante qui questa carta ci parli fondamentalmente diciamo ecco di riposo quindi magari è uno stacco rispetto a qualcosa però ci sono altre cose come dire che accadono molto velocemente come per esempio la possibilità di questo recupero quindi potrebbero anche significare tante ore di sonno per esempio oppure tante ore di come dire ecco di come posso dire cioè di prendersi cura di sé mettiamole in questo modo allora nel corso della settimana con questo re di coppe si vede che è il tutto forse perché c'è questa pausa fondamentalmente ecco chi è del cancro in qualche modo ecco arriva veramente a toccare con mano diciamo quella che è la sua polpa sotto la scorza giusto? sotto il carapace quindi si riscopre sensibile probabilmente si riscopre innamorato si immerge praticamente con i sentimenti questa cosa a quanto pare gli sembra tanto bella e tanto caruccia perché probabilmente ha passato un periodo una settimana qualche giorno quello che è dipende dalla vostra situazione personale magari ecco con qualche combattimento rispetto alla propria vita diciamo ecco amorosa o sentimentale mi riferisco diciamo ecco al re di coppe che può anche significare amor proprio attenzione non necessariamente amore legato ad un'altra persona no? e quindi il 6 di bastoni dice vabbè ok ho capito la cosa giusta da fare ho capito che devo devo vincere su una certa cosa devo vincere in qualche modo anche su me stesso devo vincere determinate resistenze la sfida è data dalla possibilità di essere felici abbiamo il sole l'allegria il successo anche fare chiarezza dentro di sé in qualche modo avere una sorta di illuminazione come si può superare? con l'asso di bastoni abbiamo come dire ecco qualche stimolo un'idea una cosa da fare un nuovo progetto diciamo ecco un inizio un inizio legato al fuoco che è come quando uno accende la candela praticamente la stessa identica cosa quindi si impara una lezione questa settimana Cavaliere di Pentacoli il Cavaliere di Pentacoli in questo caso parla di progetti parla di ambizione quindi la lezione che si può imparare in qualche modo ecco che l'ambizione è anche uno stimolo può essere anche diciamo ecco anche tutto sommato no avere un obiettivo ecco lo stimolo avere proprio un obiettivo e quello ti fa sentire vivo ecco questi aspetti che si percepiscono questa settimana l'opportunità con il dieci di spade di chiudere qualcosa dieci di spade è una carta proprio di chiusura non necessariamente significa una sofferenza tra l'altro in questo mazzo di carte abbiamo la civetta che comunque è collegata anche all'intuizione e anche la chiave abbiamo anche queste stelle che ci parlano comunque di una certa protezione il dieci di spade dice una fine inesorabile diciamo ecco qualcosa come dire ecco che passa per un sepolcro letteralmente però da questo sepolcro nasce qualcosa ecco di nuovo si aprono delle possibilità evidentemente no quindi finisce qualcosa ma per delle nuove opportunità quindi l'opportunità sono le nuove opportunità cioè opportunità magari diverse rispetto a quelle del passato è chiaro ci sono anche come dire ecco una situazione che si sblocca rispetto ad un distacco sentimentale ad un allontanamento magari ecco quest'otto di coppe potrebbe pure parlare di avere abbandonato qualcuno avere abbandonato l'idea diciamo ecco di mettersi con qualcuno o l'idea o l'idea il sentimento per qualcuno attenzione quindi questa cosa come dire ecco sicuramente ecco si sblocca questa settimana e quindi cambia qualcosa legato al 3D coppe ci potrebbe essere o un'espansione del sentimento o anche una riconciliazione però non è questa una persona totalmente nuova questa potrebbe essere una persona con la quale già comunque c'era stata se non una storia una dichiarazione di intenti no? andiamo a vedere proprio specificatamente rispetto all'amore per i nostri amici cancerini abbiamo l'asso di pentacoli quindi qua c'è un'opportunità un'offerta è anche un'ottima opportunità a dire la verità con il re di bastoni quello che si vede che qua c'è una sorta di presa di responsabilità di maturità ok? dice voglio prendere la situazione come dire ecco in pugno anche se non mi in qualche modo ecco mi appoggio sugli altri no? come finisce? nove di bastoni qua abbiamo un probabilmente stabilire un perimetro generalmente il nove di bastoni è una carta che parla come dire ecco di completare un progetto no? quindi o può significare che qualcosa che si era iniziato si vuole portare a termine sono molte le carte che qui parlano di un progetto obiettivo progetti eccetera eccetera quindi qui c'è di mezzo evidentemente qualcosa che per voi è un'ambizione e che avete intenzione di portare avanti non dica a termine va bene magari questa settimana si presenteranno assolutissimamente delle varie di opportunità o possono cambiare le situazioni con delle energie certamente più favorevoli va bene amici del segno del cancro anche per voi è tutto fatemi sapere se vi va come vi risuona io vi saluto vi abbraccio vi bacio a chi non dispiace like se volete iscrivetevi noi ci vediamo la prossima settimana per l'update e ogni giorno con un nuovo video trovate anche l'oroscopo di aprile se ancora non l'avete visto a presto ciao eccoci qua amici del segno dello scorpione vediamo cosa c'è per voi allora 12 carte eccoci qua allora intanto qui abbiamo un paggio di coppe quindi potrebbe significare che c'è di mezzo una situazione sentimentale però sai non di quelle storie diciamo non che non sono serie magari che sono ancora gli albori no in generale certamente ecco è una settimana che inizia con qualche aspetto fantasioso potrebbe essere qualche fantasia dal punto di vista diciamo ecco sentimentale oppure potrebbe essere cioè potreste avere la percezione in qualche modo di qualcuno che vi sta illudendo no e magari nel corso della settimana ci possono essere degli sviluppi con qualche nervosismo la settimana finisce diciamo ecco in generale con aspetti che possono essere legati o all'esigenza di scoprire qualcosa o comunque cose nascoste delle ambiguità aspetti un po' torbidi passatemi il termine per te la sfida questa settimana infatti potrebbe essere proprio questo vederci chiaro fare chiarezza ma lo sentite come un'esigenza come dire ecco di destino ora come potete fare intanto serve prendere dei contatti portare delle novità anche se ci avete avuto come dire ecco per esempio un litigio o avete nel corso della settimana un litigio bloccate richiudete compagnie cantante invece no riprendete subito le cose per andare nella direzione di un chiarimento la lezione che puoi imparare magari questa settimana a che fare con il non perdere la testa mettiamola così perché ripeto c'è questo cavaliere di spade che tende un pochettino diciamo ad essere particolarmente impulsivo c'è l'opportunità di sicuramente lavorare su di sé in modo particolare si sblocca una situazione che era vincolata ad un ambito in cui si sentiva un'esigenza di portare una certa giustizia sicuramente c'è un aspetto che cambia una situazione viene portata al suo compimento totale anzi tombale nel senso che non che è brutto cioè si chiude proprio una faccenda si chiude proprio una questione e non ci tornerete mai più nella vita per quanto riguarda l'amore abbiamo conseglie di coppe se c'è una situazione legata ad un flirt ad un innamoramento una situazione come dire che non è proprio il grande amore della vita però potrebbe essere anche un qualcosa legato al passato oppure potrebbe significare che vi sentite di ritrovarvi in una medesima situazione che magari ancora non avete processato ecco infatti la lezione da imparare è proprio questa che ti dicevo prima di non cadere magari nella stessa impulsività negli stessi schemi infatti potrebbe anche essere non dico una buona opportunità ma questo si vede si valuta diciamo ecco magari in altri ambiti però c'è un'imperatrice che dice che in amore sicuramente c'ha una vittoria in mano o perlomeno è la possibilità di creare certamente la vita o la relazione che vuoi ora a prescindere se la persona specifica è quella che ti collabora in questo momento infatti più che altro quello che si capisce è che il meglio si vedrà nel futuro con questo 3D bastoni va bene amici dello scorpione per voi è tutto se vi va commentate a me piace leggere tutti i vostri commenti like a chi non dispiace per chi non è iscritto se vi va iscrivetevi noi ci vediamo la prossima settimana e vi ricordo l'oroscopo del mese di aprile sul canale un bacio ciao ciao a tutti amici del segno dei pesci benvenuti ben trovati per questo oroscopo settimanale vediamo cosa c'è per voi questa settimana allora 12 carte l'eremita cavaliere di bastoni e 5 di bastoni 10 di coppe 5 di spade e 9 di coppe il mondo 6 di coppe 3 di coppe il mondo scusatemi il mondo buonasera la luna l'otto di coppe e la regina di pentacoli e qui c'è il 2 di pentacoli quindi diciamo che c'è un po' un qualcosa per voi come dire ecco qualcosa bolle in pentola mettiamola così però c'è una certa instabilità bisogna valutare voi sentite come qualcosa che oscilla no? come un bilancino no? e quindi avete bisogno di valutare è come se in qualche modo non dico che vi manca il terreno sotto i piedi però quello no non è che vi manca il terreno sotto i piedi però è come se arrivassero come dire ecco nuove informazioni nuove cose che vi devono portare per forza nella condizione di valutare tra un prima e un dopo tra un se faccio così io se faccio in un'altra maniera in generale infatti per voi la settimana sicuramente però non è questa una riflessione di oggi io credo che è una riflessione di lunga durata non è che state sempre a pensare sempre alla stessa cosa ma ci siete tornati e quindi magari adesso arrivano elementi nuovi no? l'eremita un discernimento parla di questo è una settimana nella quale in qualche modo si torna su aspetti magari del passato si torna sui propri passi si vive qualcosa come una sfida dopo un certo discernimento ora fate conto che non necessariamente si passa all'azione anche se abbiamo due carte d'azione qui quindi cavaliere di bastoni e cinque di bastoni prevalentemente si può dire che prevalentemente sì si può dire che qui comunque più che altro quello che conta è l'essenzo di di sfida di sfida cioè nel senso è come uno quando coglie un quanto di sfida non so se ho reso l'idea per quanto riguarda diciamo la sfida esattamente della settimana qua abbiamo il dieci di coppe quindi è una cosa legata all'amore o è legata alla famiglia o è legata al quotidiano o è legata diciamo vedi il dieci di coppe non parla solamente diciamo di rapporto di coppia parla diciamo proprio della famiglia inteso proprio come nucleo familiare quindi può riguardare qualche membro della famiglia questa sfida infatti cos'è che diciamo cosa si può superare questa settimana un senso come dire anche di fallimento lì dove per esempio si è capito con questi nuovi elementi magari ecco una cosa che prima non si era capita diciamo allora non è che non sono buono io per esempio come marito come moglie come genitore questa potrebbe essere la chiave di lettura e infatti la lezione che si può imparare è anche legata a in qualche modo ecco una felicità tutto sommato no c'è c'è una prospettiva di felicità in questo senso o una soluzione l'opportunità infatti qua è come dire ecco si è raggiunta la quadra questa è l'opportunità forse finalmente ho capito tutto dopo questo ecco quella è proprio l'opportunità che ci può essere no fai conto che infatti si sblocca una situazione del passato e vi ricordo sempre che voi dei pesci avete un transito di saturno con delle lezioni quindi a maggior ragione si sbloccano delle situazioni legate a un passato qui situazioni dell'infanzia situazioni della gioinezza sapete voi no con un cambiamento rispetto a un'espansione del sentimento una riconciliazione un qualcosa che si come dire commette insieme tutti i puzzle ma proprio a livello affettivo specificatamente nella vita sentimentale invece qui si vede come dire non dico un'instabilità ma non si può parlare di stabilità però delle cose nascoste che vengono in qualche modo ecco alla luce fai conto che fai conto che con questo otto di coppe durante la settimana magari ecco in qualche modo ecco si tende a fuggire o a sfuggire da una certa emotività alla fine comunque ecco la situazione diciamo ecco parlo meno lì dove ci sono delle persone specifiche non è come dire ecco in pericolo diciamo comunque si costruisce comunque c'è ci sono cure e ricchezza in qualche modo ecco nella relazione lì dove c'è una relazione già lì dove non c'è in ogni caso questo è un atteggiamento vostro personale va bene ok per voi è tutto amici del segno dei pesci io vi ringrazio per avermi ascoltato a chi non dispiace lasciatemi un like e se volete potete anche commentare io leggo tutti i vostri commenti così so come metcio le nostre energie so come vi risuona e ovviamente per chi non è iscritto iscrivetevi al canale alla prossima buona settimana ciao ciao